Signori, signori, il primo numero, dentro il cappello non c'è niente, l'usure, eh sì, eh già, visto, c'è niente, spera, cosa dite, è fuori, signori, signori, dentro il cappello non c'era niente, da su, da sempre più difficile, sim, sababin, furforo, lei deve correre forte, fino a quella fila, puoi andare qua in là, fino a qua in là, fino a qui, avanti era che l'ultima volta che vuole scappare, sono andato a piena buboli Vai! Vai!